ciao e benvenuti un nuovo video allora oggi apriamo insieme la blissy box nel mese di aprile dunque ero partita con aprirla intanto aprire la confezione perché tolgo i dati personali dalla confezione ma ho visto che questo mese non è una box è una bustina e allora l'ho tenuta chiusa questa sarà le istruzioni cosa c'è scritto dentro e questa è la scatola vuota recap veloce veloce prima di aprirla perché si fosse appena sintonizzato sul canale blissy box è un abbonamento mensile a una box beauty in questo caso io faccio quella con la collaborazione di francese ma esiste anche il sito italiano da poco prezzo di 16 euro e 90 ed è intanto infobox c'è un colcio sconto dal sito francese che però la spedizione quindi 16 90 per la spedizione viene 20 euro senza togana perché dalla francia esiste anche da poco il sito italiano che sembra che abbiano le stesse box ma devo ancora guardare bene però io collaboro con quello francese quindi guardiamo questa allora direi di iniziare subito intanto la box è deliziosa la box è una bustina riutilizzabile molto primaverile e ha dentro dei prodotti direi di tirarli fuori e poi dopo vediamo che cosa sono ok bustina in tessuto proprio carina mi piace perché è carina marchiata abissimi a e belte butte vitamine e vitaminica ok allora 1 2 3 4 5 prodotti partiamo da sinistra andiamo a destra il primo che vedo a sinistra questo glime sono dei cotton pad riutilizzabili questi pad qua per struccarsi sono molto carini cerco di aprirli vediamo se sono dall'altra parte della stanza le forbici per togliere il nastrino così ve le mostro questi sono io li utilizzo con i burri struccati per rimuovere l'eccesso del burro prima di passare la doppia attrazione poi dopo si mettono tranquillamente in lavatrice si lavano a mano fatti così belli morbidi belli carini misura giusta mi piacciono mi piacciono tanto ok poi dopo non so se i prezzi ci sono in questo foglietto per dirvi prezzi però adesso non vedo allora juliette esagun egostratis 5 ml apriamo apriamo perché non una mini media di cose è un profumo ok juliette esagun sinceramente non lo conosco la confezione era questa sentiamola è da uomo è da uomo non è malvagio è un po da uomo a sti contemporanei teca colonia ha creato da romano ricci e il granso sono finita ricci quindi collaborazione con nina ricci sarà un parente sarà un parente scusatemi non lo so andiamo avanti con questo hello body oh questo ci piace rose divine daily face cleansing serum un siro detergente di hello body diciamo vediamo se ha qualcosa intanto mi piace che abbia l'inglese almeno si l'ho studiato francese ma non l'ho utilizzato così tanto da ricordarmi che cosa dice che cosa devo tradurre daily face ah è un siero cleansing siero all'acido salicilico naturale all'acido glicolico che combattono le imperfezioni e li seguono in eccesso ok mi piace mi piace perché acido salicilico assolutamente mi trovo molto bene si daily face clearing serum 30 ml quindi un full full size fatto così questa è la confezione io adesso vado a vedere il prezzo perché secondo me la body costa non c'è scritto per caso il prezzo da qualche parte eh sì di questo c'è il prezzo perché è un full size 39,99 quindi abbiamo già ripagato la box abbondantemente ricordiamoci che costa 20 euro quindi con un prodotto full size già si ripaga la box ultimi due prodotti io questo non so cosa sia garanzia è un ottimo marchio ed è per la skin care dice polvere magica giovinezza 10 per cento di vitamina c pura collagene vegetale mescolate un cucchiaio raso sì ah rieccoci allora cucchiaio raso sì questo c'era il misurino che è piccino a 0,2 ml effettivamente con la polvere cosa dicevamo che dobbiamo fare uno di questo con il vostro siero garanzia non ce l'ho però abituale applicare la mattina e sera sul viso ok quindi è una polvere di vitamina c la confezione è un un grammo da mischiare con il siero magari non con quello all'acido salicilico ma con un tossiro idratante perché no mi piace come idea la vitamina c solitamente mi piace molto nei prodotti cosmetici vediamo se in polvere ha un potere in più interessante come cosa e poi dopo ho guardato sul perché questo ne parla proprio qua sopra e si vede che è questa cosa innovativa ed è viene 26,50 euro quindi abbiamo ampiamente superato la box ultimo prodotto soleil marine bb cream corretris antalogie 30 ml quindi un full size bb cream mad in bretagna 97% ingenti d'origine naturale doré golden ho paura che sia scura ma andiamo a vederla una bb cream allora non sono solita utilizzare le bb cream non ci vado in matta tranne quella della nivea che trovo solo a volte perché adatta alle pelle miste grasse quindi è fresca e si asciuga subito e non è poco cremosa ma ok molto scura è molto coprente ma è anche scura ok o è sfumandola basta poco prodotto la sfumiamo bene non è così scura effettivamente ha un buon profumo una volta sfumata si si vede un attimo lo stacco ma con una leggera abbronzatura magari verso l'estate per non usare fondotinta correttore bla 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 potrebbe anche essere valida di questa c'è il prezzo no però già questo più questo più la tipote superiamo i 100 euro ed è sì superiamo ampiamente e quindi consideriamo che la box è costata 20 euro compresa spedizione quindi perché no sento odore di secondo me la candela è ancora accesa la candela è ancora accesa non è spenta a proposito non c'entra niente ma sapete che sono anche ambassador di ava e mei per le candele quindi trovate nell'info box anche qualche sconto per le candele questa è festival season fantastica non c'entra niente ma era perché sentivo odore di il bruciato fosse una candela ma non si è spenta quindi non lo so basta allora ricapitoliamo veloci 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 abbiamo la pochettina che è molto carina ed è riutilizzabile mettiamo a rimettere dentro i prodotti che abbiamo trovato i due pad riutilizzabili comodissimi poi il rose divine di hello body in full size il profumo che ho la finestra della cucina in un'altra stanza socchiusa perché c'erano i fuochi accesi si sente allora il profumo che è da uomo ma comunque mi sembra buono e poi a me i profumi da uomo piacciono la polvere di vitamina c di garanzia o garanzia non lo so ma comunque vitamina c mi piace quindi la proviamo con il suo misurino e per ultimo la baby cream che non è affatto male pensavo che fosse scura invece non è affatto male a questo punto chiudiamo la box ed ecco qui il tutto fatemi sapere se vi piaciuta questa box quale prodotto vi incologiste di più come sempre queste box di blissim sono molto skin care e poco make up per essere inclusive un po per tutto ed è una cosa che apprezzo se volessi una box di make up sceglierei altro questo in questo caso è skin care e mi piace per conoscere marchi nuovi ecco questo è tutto io vi do appuntamento come sempre al prossimo video ed è basta ciao ciao